5 varianti che possono arricchire il tuo groove e renderlo così un po' più interessante. Vediamoli! Sono alcune idee che mi sono venute in mente, che però spesso io utilizzo quando suono, e quindi perché non consigliarveli? Ce ne sono presenti tante altre, ci sono tante possibilità, però io, proprio perché li utilizzo, voglio farvi vedere questi. Non sono in ordine di importanza. Numero 1, l'apertura del charleston. Spesso quando si ascolta la musica, quando si ascolta dei batteristi, viene appunto sentita una leggera apertura del charleston intanto che si suona appunto con la mano. Nello stesso momento in cui si colpisce il charleston, si fa una leggera apertura col piede. Numero 2. Sempre sul charleston, molte volte, uso raddoppiare gli ottavi e quindi inserire due sedicesimi. rende tutto il groove un po' più ricco. Numero 3. Parliamo delle ghost notes. Non sono altro che delle note suonate più leggere. vanno a mischiarsi appunto con le note forti. Possono essere appunto anche alternate con dei colpi di cassa. Numero 4. Fa parte della famiglia dei rudimenti ed è il flam. Come acciaccatura diciamo che viene principalmente utilizzata appunto per rafforzare un colpo. Presenta appunto una nota suonata un po' più leggera che anticipa la nota forte. Numero 5. Lo utilizzo molto perché mi piace particolarmente. Consiste nel spostare il colpo di rullante fuori dal beat. Quindi non sul battere, non sul classico 2 e 4 nel caso dei quattro quarti. Bensì suonandolo sull'ottavo o il sedicesimo in levare. Rende tutto un po' particolare. Questa appunto sono alcune delle idee delle mie proposte. Se volete qui sotto trovate lo spartito con tutti gli esercizi suonati. A fianco ad ogni groove che io vi ho suonato, trovate un semplice esercizio che vi potrà aiutare ad iniziare a lavorare con questi abbellimenti. Se avete delle altre richieste, volete magari approfondire uno di questi aspetti, scrivetelo nei commenti. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel like. È da parte mia una bella soddisfazione sapere che è stato utile. Vi aspetto sempre sul mio canale. Buon groove e alla prossima! Ciao! Grazie a tutti!